Il nostro emporio della solidarietà è nato a ottobre del 2012, da Foligno sono venuti a vederlo e poi lo hanno aperto anche loro, scherzo vai, in effetti si è avvenuto anche così, anche a Perugia, ecco in Umbria ce ne sono tre, Città di Castello, Perugia e Foligno, quindi si è veramente costruita una rete, perché si è costruita una rete? Una rete con i comuni, con le aziende, con i supermercati, con le scuole, con le associazioni, con le parrocchie, l'inizio è stato con i comuni, con le istituzioni quindi, i quali hanno avuto a mio avviso, la proposta è stata nostra, però loro l'hanno colta, quindi a mio avviso hanno avuto un'intuizione intelligente e cioè hanno messo a disposizione dell'emporio e quindi sono stati d'accordo con noi a fare una convenzione che loro e quindi attraverso questa convenzione sostenevano anche finanziariamente l'emporio utilizzando ciò che loro spendevano con i buoni spesa che davano alle persone che venivano ai loro uffici ai servizi sociali a chiederlo. Poi insieme ai comuni abbiamo coinvolto le aziende, le quali oggi sono diventate fornitrici abituali, le aziende che producono alimenti, le aziende agroalimentari del territorio che a volte ci danno le eccedenze, in qualche caso proprio che sono cose che avrebbero senato buttato via ma non perché non erano buone, perché voi quando mettere nel mercato non è più conveniente perché ti abbassano i prezzi. Quindi a volte però nella maggioranza dei casi ce le danno nel senso che è un'offerta, ce le regalano e loro le potrebbero vendere. Quindi in questo caso non si tratta di recupero di prodotti vicino alla scadenza o eccetera. Sono oggi diventati fornitrici abituali e si tratta di alimenti principali, olio, salumi, carne fresca, confezionata, ortaggi, retersivi, igiene per la persona, farina, frutto, pane, ne avviene attraverso questa operazione, cioè sono le aziende che ce le danno. E poi i supermercati da cui, due, dai quali noi recuperiamo i prodotti che sono prossimi alla scadenza o che sono non commercializzabili, nel senso che la confezione è fatta in una maniera tale che non le rende confezionabili ma che però sono perfettamente commestibili ovviamente. In questo caso noi due volte alla settimana facciamo questa operazione d'accordo attraverso quindi un sistema che abbiamo messo in piedi soprattutto con uno dei due supermercati perché poi è un aspetto organizzativo, è molto importante questo, e che quindi la corsa funziona bene perché noi due volte alla settimana riusciamo a prendere questi prodotti lasciati come devono essere lasciati, fra l'altro in contenitori giusti, eccetera, per cui la corsa funziona bene, si tratta soltanto di allargarlo perché questo è il nostro crucio, questa era l'idea iniziale, recuperare ciò che sarebbe stato buttato via, invece questa parte c'è, però non è la maggioranza, la maggioranza dei nostri prodotti avviene attraverso il recupero di cui vi ho parlato prima. E poi ci sono le raccolte mirate, mirate la aggiungo io perché le raccolte alimentari ci sono sempre state, voi le vedrete fuori dai supermercati, davanti alle chiese, ognuno fa le associazioni che lo fanno, mirate meno, nel senso che tutti si portavano la stessa cosa. Noi i primi due mesi avevamo, anche cinque o sei mesi, avevamo problemi della pasta e del riso che ci stava scadendo, non riuscivamo a smaltirla perché quello è quello che viene in mente alla gente, mi porto la pasta e mi porto il riso. Invece noi diamo un foglietto con scritto si manca questo, questo, questo e questo e adesso ci arrivano le cose giuste. Concludendo, mi sembra che c'è questo tentativo di costruire la rete, come si diceva, intanto all'interno del mondo ecclesiale, perché già questo è importante, attraverso 8 centi di ascolto, l'Emporio ci ha permesso di mettere in piedi 8 centi di ascolto in altre tante zone. Tutta la dioce ci sono questi 8 centi di ascolto dove le persone che vogliono venire all'Emporio ci devono andare a fare richiesta, ma dove queste poi vengono seguite e quindi non solo decidere se gli spetta o no, però anche, e quindi con loro c'è questo rapporto. In più la rete con il Comune e con gli assistenti sociali del Comune, i quali insieme a noi, tre assistenti sociali del Comune, due noi della Carice, quindi un gruppo di cinque persone, compongono il comitato di valutazione. Cioè tutte le domande che prima noi istruiamo, poi arrivano a questo comitato di valutazione composto da assistenti sociali da noi, che decidono se rilasciarla o no, la tessera, rispetto a criteri che già abbiamo stabilito, oppure se no e se si rilascia con quanti punti, eccetera. In tutto questo frangente è subentrato questo progetto Zero Waste, Zero Spiechi, della regione gestito dal CESVO, che ci ha permesso di allargare un po' la costa, quindi di renderla anche più interessante, perché sono stati coinvolti anche altri donatori. e quindi questo è un po' la costa. Grazie. Grazie a tutti.